Signori miei, buongiorno e buon pranzo, sì, buon pranzo, di cosa vi cibate? Fatemi sapere, la vostra salute è a posto, facciamo anche un po' di conversazione perché sennò a quanto pare rischio di passare per maleducato, sì, 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 cioè c'è gente che sul web offende tutto e tutti, anche la propria dignità, poi sono io, sono io quello maleducato, quindi sta cosa è surreale, ma mi diverte, mi diverte, quindi buongiorno, buon pranzo, però avviamoci anche a parlare dell'argomento di giornata perché poi se mi focalizzo solo su quello, forse poi, però, parliamo dell'argomento di giornata. Le prime pagine del giornale le ha conquistate Cristiano Ronaldo con il suo gol, con il suo volo, oserei appunto dire. C'è una cosa che ho apprezzato tantissimo, parto da quello che finalmente anche tanti tifosi, interisti, milanisti, sportivi, hanno, hanno, cioè, si sono fermati, hanno applaudito, punto, basta, cioè, viva il calcio, viva i gesti che fanno bello questo sport, perfetto, perfetto, non chiedo di meno, non è che bisogna ovviamente esultare per il gol di Cristiano Ronaldo, però, negare l'evidenza che sia un bel gol, che sia un gesto atletico fuori dal comune, penso che sia giusto, non si fa nessun peccato, ragazzi, perché poi c'è sta cosa che si crede che se tu apprezzi un gesto, no, fai il peccato, non è nessun peccato, non c'è nessun peccato, vive il calcio, cioè, il peccato è non amare questo sport, il peccato è non amare questo sport, punto, basta, chiudo la parentesi. Riassumo, riassumo il gol dicendo, no il gol, riassumo la situazione attuale di Ronaldo dicendo che è passato da non salta più l'uomo assalta sull'uomo, è veramente comica la facenda, però è anche reale, è anche reale, perché poi adesso tutti di nuovo a osannare il dio Ronaldo, e ovviamente ci sta, però gli juventini su tutti, gli juventini su tutti sono i primi a capire e a dire, almeno tempo fa che Ronaldo non sia quello ovviamente visto al Real, quello al Manchester e compagnia bella, ma è ovvio, cioè è una conseguenza, poi è una condizione umana, non può essere sempre lo stesso, ma sapete dove sta la bravura, magari di un allenatore e del giocatore stesso, sta nel riconoscere, e se tu riconosci che magari non sei più quello di una volta che puoi prendere, salti 4-5 calciatori e te ne vai in porta, allora se tu riconosci quello puoi essere efficace in altro, e in area di rigore, ragazzi miei, in area di rigore, come Ronaldo, pochi, non dico che sia il migliore, perché c'è gente come Lewandowski, c'è gente come Suarez, gente tosta, ma lì in area comunque non ho mai visto nessuno svettare in quel modo, quindi diventa veramente efficace, e vi dico una cosa, la mossa che, ma lo sapete anche voi ovviamente, la mossa che ha favorito Ronaldo da due giornate a questa parte è appunto il tridente, da quando si è messo Higuain, Dybala, Ronaldo, cioè lui è diventato veramente efficace, e non è un caso, e non è un caso, nelle ultime due partite ti ha fatto capire che se la palla gli arriva, lui può segnare in tutti i modi, di sinistra, di destra, volando, cioè, e quindi sta là, sta là il discorso, sta là, sta là, si tocca con mano, si tocca con mano, perché? Perché con Dybala e Higuain può scendere e viene a duettare, a triangolare, viene a dialogare con loro, oppure può andare spesso, con più facilità, in profondità, perché poi ci pensano di Dybala e Higuain, a fargli allevare il pallone, appunto a innescarlo, a far salire la squadra, e lui si può trovare più vicino alla porta, e questo lo favorisce, e ritorna ad essere un giocatore super efficace, perché sarà vecchio, sarà in declino, sarà questo, sarà quell'altro, ma Ronaldo, se messo nelle condizioni giuste, è un calciatore efficace, efficace, e nel calcio bisogna essere efficace, perché poi si parla di possesso palla, di tattica, ma bisogna essere efficaci, e Ronaldo, se sei stato per grandissimo tempo il più forte di tutti, se per alcuni lo è ancora, per me onestamente no, però se continua ad essere lì, comunque, nell'elite del calcio, è perché è un calciatore efficace, efficace, punto, e chiudo su Ronaldo, sposto un po' sulla Moviola, perché stranamente anche ieri si è parlato di Moviola, di questo, di quell'altro, io credo che si tenda veramente ad esagerare, a polemizzare anche la briciola, la briciola di pane, no, 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 non attacchiamoci alle briciole, perché veramente poi si rischia di cadere nel ridicolo, il contatto al terzo minuto tra De Miral e non so chi, non mi ricordo, lì veramente non c'è niente, ragazzi, lì non scherziamo, vai, lì per favore, ma ve lo chiedo per favore di non scherzare, perché quelli sono contatti, sono spalla a spalla, normalissimi, se iniziamo a fischiare quei rigori, ripeto, ci sarà un'infinità, un'infinità, porto un esempio di casa mia, Skinner quante volte fa spalla a spalla con l'avversario e la vince, e la vince perché è un difensore tosto, ma veramente tosto, lo fa tantissime volte, ma ci sta, ragazzi, quello non può mai essere rigore, non scherziamo, do ragione un pochettino, quando adesso si inizia a parlare di De Miral, anche a me sta un po' antipatico De Miral, ha degli atteggiamenti tutti suoi, è un giocatore che può stare antipatico, parliamoci chiaro, è un giocatore con quelle facce, con quelle antipatico per come lo si vede, come lo si percepisce, non sto parlando delle qualità del giocatore, perché come difensore questo qua non lo sto dicendo adesso che è forte, lo sto dicendo da un po' di tempo, da un pochino di tempo, quindi però è quell'antipatia un po' che lo contraddistingue, assolutamente, poi quella è Moine, al 92esimo per esempio lì ha fatto espellere Caprari, secondo me lì Caprari non ha fatto veramente niente, ma può darsi che l'abbia toccato un po', e lui si mette a fare quelle mosse, quelle sono cose che non mi piacciono, lo sapete già come ragiono, sono cose che io odio, odio quelle sceneggiate da film drammatico, da film drammatico, quelle sceneggiate, le odio, le odio, le odio, specialmente uno tosito come lui, quelle mosse, che sono quelle cose, quelle cose non esistono, e lì, lì, lì ok, però, l'espulsione al 92esimo per sommi a sommi a demolizione, non credo che possa veramente, arriviamo a contestare l'impossibile, dai, a questo punto no, a questo punto mi dissocio palesemente. palesemente. E niente, non c'è altro da dire, non c'è altro da dire, io non so che voglia, giovedì 19, non c'è calcio oggi, non c'è che c'è, non c'è niente, non c'è niente, poi venerdì c'è la fine di, e aspettiamo un po', io sto già andando un po' in depressione, perché mo' ci sarà sta pausa, io voglio il calcio sempre, sempre calcio, sempre, sempre, va bene, non mi dilungo, anche perché ci siamo dilungati abbastanza, commentate voi, likeate, iscrivetevi al canale se vi va, e niente, al prossimo video, un grande abbraccio, da Neschio. Ciao.